Storie di uomini e di imprese da un libro a un convegno di grande successo, contenuti importanti che non potevano rimanere tra le pagine o tra le mura di confartigianato. Nasce da qui l'idea di un percorso itinerante per raccontare le storie di questi imprenditori. Primo appuntamento a Sirolo. Il primo appuntamento a Sirolo per valorizzare le nostre imprese. L'obiettivo di questa pubblicazione è valorizzare il patrimonio della Regione Marche di piccole imprese che con grandi idee portano innovazione, portano successo e portano un valore a questa economia. Quindi confartigianato si è posto a questo obiettivo di pubblicare le storie di queste imprese e farle conoscere sul territorio. Quindi a Sirolo è la prima tappa di un tour che porterà conoscenza rispetto ai cittadini di questo patrimonio che va fortemente valorizzato. Come si svolgerà la serata? Ci saranno i protagonisti di questo territorio e di questa storia di impresa? In ogni tour, in ogni tappa ci saranno cinque imprenditori che racconteranno perché hanno deciso di fare impresa, quelli che sono gli ostacoli che hanno nel fare impresa e quelli che sono le innovazioni, le idee che hanno reso unica la loro azienda. E anche magari qualche aiuto che hanno avuto da confartigianato, un'assistenza, un affiancamento? Sì, ma l'obiettivo è quello di valorizzarle. Quindi non è un'iniziativa per valorizzare confartigianato, ma è un'iniziativa per valorizzare chi tutti i giorni si impegna per portare avanti la propria attività in un contesto competitivo estremamente complesso. Grazie a tutti.